Ciao, sono Franco II, sono un attore, ho 54 anni e vivo a Taranto. Ho varie esperienze, ho incominciato a recitare in teatro nel 2004, ho seguito laboratori teatrali, corso di edizione e stage con attori professionisti. La mia prima esperienza sul set l'ho fatta nel 2008. Faccio dei piccoli ruoli, l'ultimo fatto nella fiction Fratelli Caputo, che è andato in onda sul canale 5. Ho lavorato con attori del calibro come Checco Zalone, Cesare Bocci, Nino Frassica, Fabio De Luigi, Casas Mutniac, Francesco Arca e tanti altri. Sono protagonista di cortometraggi e videoclip musicali con cantanti come i Bundabash, Sud Sound System e Nitro. Grazie.